Buon mercoledì 29 dicembre. Giuseppe e Maria adempiono le obblighi della legge, portano il bambino al Tempio per fare i giusti doni nei confronti della grazia, della nascita. Un bellissimo quadro dove si fanno doni per ringraziare e nel Tempio c'è Simeone, il quale attende la venuta del Salvatore. E' stato promesso che non sarebbe morto prima di poter vedere colui il quale porta la salvezza e quando vede quel bimbo ne gioisce e gioisce al punto che è pronto a lasciare anche questa vita. Ecco, in questo riconoscimento del piano di salvezza, Simeone, colui che attende con perseveranza la venuta del Signore, ha coltivato la capacità del riconoscimento, quello che dovremmo fare noi. Non è tanto la vita che viviamo, il tempo che ci è stato concesso a rappresentare l'essenza stessa della vita, ma l'essenza della vita è nel riconoscimento del Salvatore, colui il quale attraverso il sacrificio della sua stessa esistenza morirà per donare la vita eterna. Non attraverso un gioco magico, ma attraverso una esperienza che ci chiama costantemente a porre l'attenzione sul riconoscimento del figlio dell'uomo che è nel volto dell'altro, in particolare degli ultimi, degli scartati. Lì dobbiamo cogliere, ogni volta che ci capita di incontrare l'ultimo, l'essenza della venuta del Salvatore. E questo si dovrebbe riempire di gioia, esattamente come accade per Simeone, che è felice, gioioso, ed è pronto a lasciare la visione mondana della vita che viene sempre trattenuta, sperando in una vita eterna, ma fortemente caratterizzata dalla indisponibilità di cogliere il disegno di salvezza. La vita eterna non è una promessa di un luogo magico nel quale ci collochiamo. La vita eterna è una coscienza che accoglie l'angoscia della morte e riconoscendo nell'altro la venuta del messaggio di salvezza e che ci chiama a coltivare l'amore, a lottare per il superamento delle ingiustizie sociali che caratterizzano una mondanità che anziché fa scorrere la vita la trattiene. Ceca però è sorda, ceca la venuta, sorda la parola che quella venuta porta in sé. Ecco, facciamo sì che Simeone rappresenti un punto di riferimento importante nelle nostre esistenze. Poniamoci in una condizione di attesa e contemporaneamente coltiviamo la capacità di riconoscimento del messaggio che salva e che pone la vita stessa in una prospettiva radicalmente diversa dalla mondanità. Chi trattiene la vita la perderà, chi è disposto a perderla, che significa liberazione dal trattenimento mondano, avrà la gioia di accogliere in sé la vita eterna e nel vedere il volto del Salvatore noi possiamo contemplare la bellezza della vita. Buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.